Sono stati rubati le fedi dei miei genitori che sono morti, una colonia di mio padre, l'anello che ha regalato di fidanzamento con un brillantino. E questa è una cosa che per me non ha valore, oltre che ce l'ha a livello di costo, ma a livello affettivo non ha un prezzo per me. E' il motivo per cui lei ha scelto di non usarlo mai quell'anello? Sì, infatti l'avevo lasciato da parte perché essendo morti solo da due anni e mezzo aspettavo il momento di poterlo mettere. Questo è stato per me un gran dolore. Catenine d'oro, anelli, un piccolo Rolex e un altro orologio di valore. Sono solo alcuni dei monili rubati venerdì notte durante il colpo messo a segno dai ladri in via Foscari a Treviso, laterale e senza via d'uscita della centrale strada del Mozzato. Ancora da stimare la somma precisa del furto, quello che è certo è che si attesta intorno ai 10.000 euro. Oggetti di gran valore affettivo prima che economico. Il furto tra le 20.30 e le 23.30 quando in casa non c'era nessuno. Sono passati là, hanno preso un pezzetto di pietra che poi l'abbiamo trovato qua. Eccoli qua i due tentativi. Una porta facile da scassinare, pur i ladri non si sono fidati, la zona era troppo esposta. Sono passati così dal retro del caseggiato al raso del muro per non farsi riprendere dalle telecamere di video sorveglianza installate dalla casa di fronte. Pensavo che avessero scavalcato e mi sono messo qua l'impronta. Qua fosse con l'impronta, sono saliti là sopra e hanno sfondato le due porte là sopra, hanno sforzato sia quella dentro che vedi proprio la rottura. Hanno solo distrutto, perché hanno spostato i quadri, buttati per terra, cassetti rovesciati con roba degli anni 1950. Le foto di mia mamma, di un favore, buttati per terra, cercavano le cassaforti, forse dietro i quadri. Una casa antica, ancora con l'aredamento degli anni 1950, colma di superlettili, foto e ricordi di una vita collezionati e disposti sopra mobili e credenze, trovato tutto a terra. In casa anche un tablet e un pc che sono stati ritrovati però al loro posto. Il sospetto è che i ladri cercassero solo contanti e oro. Hanno fatto tanto disastro e quello è stata la cosa peggiore, perché non guardano più in faccia nessuno. Sul caso indaga la questura, giunta sul posto anche con il reparto investigativo, ispezionate anche le impronte lasciate. I malviventi hanno colpito, armati di guanti in lattice, suole delle scarpe lisce, così da non lasciare nessuna traccia. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe si trattasse di una squadra di due, tre persone provenienti dall'est Europa. Ancora in corso le indagini. Una zona abbersagliata dai ladri, quella tra i quartieri di San Lazzaro e San Zeno, dove i cittadini si stanno attrezzando, installando allarmi e telecamere. Di poco più di un mese fa, l'ultimo colpo in una villetta di via Gritti, stessa via dove la scorsa primavera hanno rubato anche all'Accademia Musicale Studio Musica, entrati per due giorni consecutivi nel periodo di chiusura per festività. Hanno fatto via tutta una serie di materiale audio, mixer, cavi, microfoni, schede audio. Tutto materiale piccolo che si poteva trasportare tranquillamente, ma quantificato sono circa 12-13 mila euro.